Dal Vangelo secondo Giovanni Una buona Pasqua a tutti Sentiamo continuamente parlare di amore Ma cosa intendiamo dire con questa parola? L'espressione che viene pronunciata fra gli innamorati Quando c'è la dichiarazione di amore Io ti amo Anticamente c'era un certo pudore a pronunciare questa frase E si aspettava sempre che fosse l'altro a dirla per primo Oggi invece viene ripetuta Dal punto quasi da farle perdere il suo significato Ma si ripete anche troppo Ma cosa si intende? Con questa espressione io ti amo In genere si colloca l'amore nell'ambito sentimentale Molti lo identificano con l'attrattiva Che nasce dalla bellezza fisica dell'altra persona O dalla simpatia che suscita Dalle qualità che mostra di avere E quindi la si ama perché si pensa che se si riesce ad avere per sé quella persona si sarà felice Questa concezione dell'amore è rispecchiata nelle dichiarazioni di amore che sentiamo spesso ripetere Ti amo Posso vivere senza di te Sono disposto a tutto per averti per me Perché se non sei mio o se non sei mia io non potrò essere felice Ecco questo amore era chiamato dai greci eros E non è una pulsione cattiva c'è la messa a dio E' dio che ci ha fatti bisognosi dell'altro del diverso da noi di colui che con i doni che possiede ci può arricchire Ma questo aspetto dell'amore L'eros Non è tutto ciò che si intende per amore Perché se si ricerca l'altro E solo per quello che ci può dare Questa passione può anche rinchiuderci in una ricerca egoistica E farci dimenticare che siamo chiamati ad essere anche noi un dono per l'altro L'eros, lo sappiamo, sconfina spesso nell'egoismo Nella pura ricerca della propria soddisfazione E può portare anche a comportamenti degradanti Ne ricordiamo quello stupendo dialogo fra Fedro e Socrate sull'eros Quando Socrate dice dove può portare l'eros Se non è controllato Descrive i guai che può provocare A capo coperto Difatti se i rapporti interpersonali sono basati soltanto su questa pulsione erotica Sull'attrazione naturale Questi rapporti interpersonali sono labili Basta poco per rovesciarli e distruggerli È difficile stabilire legami duraturi definitivi e fedeli A partire solo dalla pulsione dell'eros Questo amore ci viene dalla natura biologica Non può venire comandato Viene spontaneo dalla nostra natura Nel brano evangelico di oggi Gesù ci parla di un amore Che non deriva dalla nostra natura biologica Viene da una nuova natura Quella dei figli di Dio E questo amore non poteva che essere presentato con un nome nuovo Non viene chiamato eros Del resto il termine eros non compare nel Nuovo Testamento Questo amore di cui ci parla Gesù nel brano evangelico di oggi È chiamato agape Dal verbo greco agapan Un verbo che nella grecità classica non lo si trova quasi mai E che invece è diventata l'espressione caratteristica Della concezione cristiana dell'amore Il brano che adesso noi ascolteremo È tolto dal discorso che Gesù fa durante l'ultima cena E che costituisce quindi il suo testamento Sono le parole più sacre che lui ci ha lasciato L'evangelista Giovanni dedica ben cinque capitoli A questo discorso testamento Che Gesù pronuncia durante l'ultima cena In questo discorso Gesù richiama con insistenza il verbo amare Agapan Ricorre ben venticinque volte E nel brano di oggi Noi lo sentiremo risuonare per cinque volte E per quattro volte sentiremo anche la parola amore Agape Gesù sta parlando Non solo ai discepoli presenti nel cenacolo Ma ai discepoli di tutti i tempi E dice loro ciò che più gli sta a cuore Amare L'amore Ascoltiamo In quel tempo Gesù disse Come il Padre ha amato me Anche io ho amato voi Rimanete nel mio amore Se osserverete i miei comandamenti Se osserverete i miei comandamenti Rimarrete nel mio amore Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio E rimango nel suo amore E rimango nel suo amore Vi ho detto queste cose Perché la mia gioia sia in voi E la vostra gioia sia piena Questo è il mio comandamento Che vi amiate gli uni gli altri Come io ho amato voi Giovanni nella sua prima lettera Ci dice che Dio è amore Non è una definizione di Dio Ma ci dice Dio è fatto di amore In Lui c'è soltanto amore L'amore è l'oro di cui è fatto Dio E Gesù è l'amato Colui che è completamente coinvolto In questa vita divina che è amore E rivolge ai suoi discepoli l'invito Rimanete anche voi coinvolti in questo amore Il mio Questo amore non ci viene Dalla nostra natura biologica Che ci porta invece a ripiegarci su noi stessi A cercare in tutto ciò che facciamo La nostra soddisfazione Viene da una vita Che non è quella della natura di questo mondo Viene dall'alto È la vita stessa di Dio Presente in noi Se Dio è amore Adesso questa vita che ci è stata donata Si manifesta in noi Come si è manifestata in Gesù Nell'amore E com'è questo amore? È la gratuità L'amore incondizionato È la pulsione divina Che ci spinge a volere il bene E solo il bene dell'altro La vita è solo la vita dell'altro Anche se è un amico Anche se ci ha fatto dei torti Questa pulsione che ci è stata posta da Dio Che è la sua stessa vita Ci porta a fare del bene Senza alcuna distinzione Anche se l'altro se ne approfitta Noi non possiamo fare altro Che lasciarci muovere Da questo DNA divino Che ci è stato donato Allora La dichiarazione che possiamo mettere Sulla bocca di Gesù È diversa Dalla dichiarazione di amore Che viene dall'eros Ti amo tanto Che Ho bisogno di te Devi essere mia Altrimenti io non sarò mai felice È un amore possessivo L'amore Di Gesù è diverso La sua dichiarazione di amore Sarebbe Io ti amo tanto Che sono disposto a tutto Pur di vederti felice Lo scopo della mia vita È la tua gioia Darei la vita Per renderti felice Anche se mi metti sulla croce Io non posso far altro Che amarti E volere il tuo bene La tua vita Questo amore Non si oppone Alla pulsione erotica Che ci è stata messa da Dio Ma la sublima Questa pulsione L'eros Viene portato Alla realizzazione Piena Nel dono di sé Per la gioia dell'altro E l'eros Raggiunge qui Il massimo Della sua grandezza Quando è vissuto Come dono Non come possesso Dell'altro E solo così La sessualità Diviene pienamente umana E ci chiediamo adesso Come dimorare In questo amore Gesù invita i suoi discepoli A dimorare Nel suo amore E ci dice come Osservando i suoi comandamenti Qui parla al plurale di comandamenti Prima ha parlato di un solo comandamento Che è questo amore Non si tratta di un'imposizione esterna Comandamento unico Che poi si manifesta in tanti comandamenti Perché momento per momento Uno vede L'ordine che riceve Riguardo a un'azione concreta Riguardo a un'azione concreta Ma il comandamento è unico E non viene da fuori Viene da dentro E viene dalla natura Di figli di Dio E questo comandamento Che viene da dentro Porta A fare del bene E solo del bene Chi non ama il proprio fratello Dice ancora Giovanni Nella prima lettera Non può amare Dio Che non vede Questo è il comandamento Che noi abbiamo ricevuto Chi vuole amare Dio Deve amare il fratello E dice ancora Giovanni Nella sua prima lettera Carissimi Se Dio ci ha amato così Al punto da donarci Suo figlio Noi continueremo la frase Dicendo Anche noi dobbiamo amare Dio No Anche noi Dobbiamo amarci Gli uni gli altri Non ci chiede Che gli restituiamo l'amore Per il resto Noi non lo possiamo fare Lui ci ha donato La vita Ci ha donato la gioia Cosa gli possiamo restituire? La nostra loda Il nostro sorriso Che mostra La nostra gratuità Per il dono ricevuto Ma Noi non possiamo Restituirgli L'amore Che abbiamo ricevuto Lo dobbiamo far passare Questo amore Attraverso il fratello Faccio un esempio Che forse ci aiuta a capire Se mi trovo a un incrocio E sono tre minuti Che aspetto che qualcuno Mi lasci entrare E a un certo punto Uno si impietosisce Si blocca E magari Sente anche Quelli dietro Che suonano il clacson Ma lui si ferma Perché compie questo gesto di amore Io riesco a entrare E che cosa faccio? Non gli posso restituire l'amore Che lui ha avuto nei miei confronti Ma io non vedo l'ora Di poter ripetere lo stesso gesto Nei confronti di qualche altro Per restituire a lui La gioia che un altro mi ha donato È questa La dinamica di amore Che Dio ha collocato Nel cuore degli uomini Donandoci la sua vita Noi siamo fatti bene Siamo fatti per questo amore E noi vediamo Che tutto il creato È impregnato di questa logica Dell'amore gratuito Lo vediamo quando noi nasciamo Nella famiglia Riceviamo la vita gratuitamente Dai genitori Noi gliela possiamo restituire Ma la doniamo Ad altri Si dona ai figli Ai nipoti Nella famiglia E tutto è vissuto In modo gratuito I rapporti familiari Sono gratuiti E quando L'amore Non è più gratuito E ognuno Comincia a calcolare Ciò che gli spetta Qualcosa nei rapporti familiari Si è inceppato E qual è l'obiettivo adesso Di ciò che Gesù ci sta dicendo Rimanete coinvolti in questo amore L'obiettivo è la gioia Vi ho parlato di queste cose Affinché la mia gioia sia in voi E la vostra gioia sia piena C'è la possibilità Di vivere sempre in questa gioia Se si rimane coinvolti nella dinamica dell'amore Noi siamo fatti per la gioia Ma per una gioia Che ci sia anche Quando le cose non vanno bene Una gioia Che c'è quando siamo in buona salute Ma anche quando siamo malati Una gioia Che rimane Quando gli amici sono fedeli E quando ci abbandonano Ci tradiscono Sparlano di noi Questa gioia non può essere turbata Noi Ci accorgiamo che Cerchiamo le soddisfazioni In questo mondo Ma non ci bastano mai Dopo la più grande soddisfazione Noi ci chiediamo E poi Perché siamo fatti per la gioia infinita Ecco Già in questo mondo Se noi rimaniamo coinvolti Dimoriamo Nell'amore di Dio Noi siamo in questa gioia Che è quella di Dio E che non può essere turbata Dalle insoddisfazioni Che accompagnano comunque La nostra vita In questo mondo E il primo segno Che si è bloccato L'amore di Dio in noi È che questa gioia si spegne Può rimanere il piacere La soddisfazione egoistica Ma non la gioia C'è un altro aspetto Dell'amore Che non è espresso con il verbo Agapan Sul quale abbiamo insistito tanto Questo amore Che è quello di Dio Amore gratuito Ma è espresso con un altro verbo greco Philein Un amore di cui si parla poco Nel Nuovo Testamento È l'amore fra amici E anche questa forma di amore Noi la troviamo nel brano evangelico di oggi Perché nell'amore di amico Ci vuole coinvolgere Gesù Nessuno ha un amore più grande di questo Dare la sua vita per i propri amici Voi siete miei amici Se fate ciò che io vi comando Non vi chiamo più servi Perché il servo non sa quello che fa il suo padrone Ma vi ho chiamato amici Perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio L'ho fatto conoscere a voi Non voi avete scelto me Ma io ho scelto voi E vi ho costituiti Perché andiate e portiate frutto E il vostro frutto rimanga Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome Ve lo conceda Questo vi comando Che vi amiate gli uni gli altri E sappiamo che cosa accade Alla corte dei re di questo mondo Sono padroni Sono i signori Hanno dei servi Quando danno degli ordini I servi non devono chiedere il perché Devono eseguire ciò che è stato ordinato Sono pagati per questo Noi abbiamo coltivato Un po' questa immagine Di Dio che è il padrone Noi i suoi servi Dobbiamo eseguire i suoi ordini Così al termine della vita Poi ci paga Basta con questa immagine Di Dio e di rapporto con Lui Gesù l'ha cancellata Non vuole dei serviti Nel Vangelo di oggi ci dice Voglio degli amici Qual è la caratteristica dell'amicizia? La confidenza La condivisione dello stesso progetto L'impegno a portarlo a compimento In piena armonia con l'amico Gesù Non può più chiamarci i servi Perché ci ha rivelato Il disegno del Padre sul mondo E vuole coinvolgerci Nella realizzazione di questo progetto E qual è il disegno Che Lui ci ha presentato La sua persona Nella sua persona Il Padre del Cielo Ci ha rivelato l'uomo nuovo Quello che vuole Proporre a tutti Per realizzare Quel figlio di Dio Che noi vediamo splendere Nell'unigenito Che è Gesù di Nazare Eccolo il progetto Che Lui ci ha rivelato E vuole coinvolgerci In questo progetto Non come servi Che vengono pagati Ma come amici L'amicizia È segnata Dal dono reciproco Gratuito Incondizionato L'amicizia è fondata Sulla gratuità Il servizio reso un amico Non può venire pagato Lo vediamo Nella logica Del regalo Quando facciamo il regalo Un amico Anzitutto Ci pensiamo bene Perché è difficile Scegliere L'obiettivo che abbiamo Non è Dare qualcosa Che potrebbe Comperarsi anche lui Ma dargli qualcosa Che gli faccia capire Quanto noi lo conosciamo Quanto conosciamo I suoi gusti Come sappiamo Come renderlo felice E quindi Quando lo vediamo Sorridere Noi siamo contenti Perché gli abbiamo Fatto capire Quanto è importante Per noi E lo scopo Del regalo È proprio Quello Di mantenere Un rapporto Aperto Con questa persona Perché lui Un giorno Ripeterà lo stesso gesto Nei nostri confronti Ci farà capire Quanto siamo importanti Per lui E quanto ci conosce Perché anche a noi Farà un regalo Gratuito Ecco È questa gioia Del donare Quella in cui Gesù ci vuole Coinvolgere Con lui E Dice Io Non vi ho mai Chiamato Servi Voi siete Miei amici Perché Fate ciò che vi comando Ciò che vi comando È questa proposta Di mondo nuovo Nel quale Lui ci vuole coinvolgere Noi Preferiremmo Continuare A essere servi A obbedire Cecamente Agli ordini Che il Signore Ci dà Del resto Osservati i comandamenti Potremmo essere Tranquilli No Adesso è molto di più I comandamenti Sono la frontiera minima Come si può parlare Di non uccidere Quando noi vogliamo Costruire Un mondo In cui L'uomo Dona la sua vita Per la gioia Dell'altro Ecco Ciò che Gesù Vuole È coinvolgerci In questo Progetto E quando si è Convinti Della causa Allora si è Pronti a dare Il 100% Delle proprie Capacità Non per ricevere Un premio Alla fine Ma per la gioia Di aver lavorato Con una persona Amica Gesù Ci vuole Amici Così Non vuole darci Ordini Non chiediamogli Non ce lì Non ce lì Non ce lì Non ce lì darà Lui ci mostra La vita E la gioia Che vuole portare Nel mondo Ti piace O non ti piace Questo progetto Di uomo Vuoi realizzarlo Con me Nessun ordine È la proposta Di unione Di vita Con lui Oltre questo amore Non c'è più nulla L'amore che lui ci propone Non è L'occhio per occhio Dente per dente No Questo non era L'orizzonte ultimo L'orizzonte ultimo Dell'uomo riuscito È quello di chi ama In modo incondizionato Anche colui Che è suo nemico Che gli ha fatto dei torti Che gli ha fatto del male Oltre questo orizzonte Di amore Non si può andare E sono amici di Gesù Tutti coloro Che vogliono costruire Con lui Questo mondo Auguro a tutti Una buona Pasqua E una buona settimana